Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Vi confesso che il motivatore di oggi è quasi un pretesto. L'ho scelto per una circostanza casuale, una coincidenza, avrebbe detto Jung, che si è verificata nel momento in cui è avvenuto l'episodio che mi ha ispirato la motivazione di oggi. Ecco che allora Michel de Montaigne, che ho scelto come simbolo della motivazione di oggi, si trova quasi suo malgrado a dare voce a questa motivazione che riguarda la paura. Questa motivazione, come vi dicevo, mi è stata ispirata da un episodio che ho vissuto direttamente. Pochi giorni fa sono andato a fare un tampone perché dovevo partire per una breve vacanza e sono andato a farlo in una farmacia. Sono andato in scooter e quindi indossavo il casco, mi sono tolto il casco prima di entrare in farmacia e mi sono, come faccio sempre, come fanno tutti quelli che hanno il casco, mi sono messo il casco sul braccio, cioè con la cinghietta dell'allacciatura del casco a mo' dipendente. Il problema è che mi ero dimenticato di allacciarla e quindi sostanzialmente ho infilato il braccio dentro l'allacciatura e il casco è, per la forza di gravità, cascato per terra. È cascato in modo particolarmente rumoroso e malandato per terra emettendo in effetti un suono piuttosto forte e improvviso, quasi come effettivamente uno scoppio. Ebbene, mi sono subito accorto del terrore che si è sparso nella farmacia, tanto che, non sto scherzando, ho dovuto, mi sono sentito, anzi per meglio dire, in dovere di alzare le braccia, come insegno di resa, e di rassicurare tutti a voce alta dicendo non vi preoccupate, non è un attentato, non è esploso nulla, scusatemi, mi è caduto il casco. E in quel momento vedo più persone che si portano le mani al collo con l'indicazione dello spavento, del terrore che, per fortuna, è passato. Questo mi ha fatto venire in mente un altro episodio che ho vissuto un po' di tempo fa, quando sono andato nel campo che è vicino a casa mia per fare quattro passi e grazie alla freschezza del cielo, alla frizzante brezza dell'aria, il naso mi si è un po' pizzicato e, insomma, mi è venuto da starnutire, uno starnuto secco e un po' coudibile. Anche in quel caso ho visto decine di persone che si sono voltate in distanza, perché ovviamente ero da solo con le persone in distanza, che si sono voltate allarmate e anche lì ho dovuto, mi sono sentito di dover rassicurare, dicendo, e anche questa volta non sto scherzando, dicendo non vi preoccupate, non è covid, è stato uno starnuto dovuto a un prurito al naso. Ecco, si potrebbe dedurre che, essendo queste mie parole pronunciate ancora durante il nostro lungo periodo di emergenza, ciò sia dovuto meramente alla contingenza, alla situazione così imprevedibile, emergenziale, che effettivamente giustifica o potrebbe giustificare un certo allarmismo. Ma, se ci pensate, questa situazione non ha cambiato di qualità l'atteggiamento precedente generale. Ne ha semmai intensificato la manifestazione, ha accentuato, ha, se vogliamo, patologizzato un atteggiamento che era già ampiamente condiviso, anzi direi l'atteggiamento che costituisce la tonalità fondamentale, emotiva della nostra epoca, La Paura. E, complice, un libro che sto leggendo in questo periodo, un libro piuttosto impegnativo, molto bello quanto impegnativo, perché consta di oltre mille pagine, è un libro dello storico Jean Delumeau, e si chiama Il Peccato e la Paura, ed è un libro che ha come centro l'analisi dell'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo. Ed è all'interno di questo libro, per la precisione, a pagina 66, il libro edito da Il Mulino, che ho trovato la frase di Montaigne che vi andrò a leggere e che ho letto durante l'attesa, dopo l'incidente del casco in farmacia, durante l'attesa per il tampone. La concomitanza casuale o sincronica di questi due eventi, cioè la lettura di questo libro, proprio di questo libro, che parla di peccato e di paura, e dell'evento della paura di cui sono stato mio malgrado, causa mi ha fatto riflettere su le cause di questa paura. Ecco che allora vi invito a seguire questo ragionamento, spero non sia troppo ingarbugliato. Uno degli aspetti, dei principi più praticati nel Medioevo a livello paradigmatico, cioè a livello più condiviso, più di massa, era il cosiddetto contemptus mundi, ovvero il disprezzo del mondo. Sostanzialmente il peccato, il senso di colpa, era tutto attribuito all'individuo, all'individuo carnale, che a partire dai mistici, che vedevano naturalmente nella carne, nel corpo, nella materia, il limite da superare per poter ascendere all'unione mistica, a partire dai mistici, poi divenne sempre più praticato da sacerdoti, che insegnavano ai loro fedeli questi stessi principi negazionisti della carne, e insegnavano ad avere disprezzo della vita mondana, dei piaceri mondani, della sensualità, della carnalità, e soprattutto ad avere paura del castigo divino, ad avere paura, terrore perfino, della punizione divina. E infatti molto acutamente lo storico dell'humo fa notare quanto sottile e friabile sia il confine tra timore di Dio, che era quello, diciamo così, insegnato dalla Bibbia, il quale timore è facilmente traducibile in termini contemporanei, è il timore del padre, è il sapere che c'è qualcuno che è sopra di te, che ha l'autorevolezza e che ha l'autorità su di te, e quindi muoversi, comportarsi cautamente nella prospettiva di essere coerenti e corrispondenti all'insegnamento. Ma non è timore nel senso di paura, semmai è timore reverenziale, come si dice oggi, ma da lì ad avere paura del castigo divino, avere paura della punizione divina, dal timore al terrore, il passo era breve e infatti è stato ampiamente, storicamente fatto, con un dominio paradigmatico di questa credenza e di questa paura, di questo terrore, che si è protratto per molti secoli, fino a quando? Fino ovviamente alla rivoluzione scientifica e poi via via alla rivoluzione illuministica, fino all'emancipazione dell'individuo nel cambiamento di paradigma, dal paradigma magico-religioso medievale al paradigma scientifico, quello in cui ancora attualmente viviamo, che è un paradigma altrettanto coerente. è un paradigma che, nel metodo scientifico, nella razionalità e nel materialismo, ha i suoi pilastri fondamentali. E a ben vedere, oggi ci troviamo sul polo esattamente opposto a quello dei nostri antenati che vivevano nel Medioevo e nel Rinascimento. Oggi potremmo parlare, se allora si parlava di contemptus mundi, disprezzo del mondo, oggi potremmo parlare di contemptus eterni, disprezzo dell'eterno. Non vi è più quella dimensione spirituale, non vi è più né il terrore né il timore di Dio. Siamo carne, siamo materia, siamo soli nella nostra materialità, siamo individui emancipati, siamo individui autonomi, autosufficienti, ci siamo liberati dall'ingombrante presenza divina e viviamo nella paura. Anche allora vivevano nella paura, mi potreste dire, e questo allora caratterizza il destino dell'essere umano. secondo me vi è una differenza paradigmatica. Allora si aveva paura del castigo divino. Sostanzialmente si aveva una paura. Si aveva paura che se si usciva dai binari, se si tradiva l'insegnamento, se non si seguivano le regole sempre più stringenti e repressive, va detto, soprattutto nell'epoca dell'inquisizione, nell'epoca diciamo in cui il paradigma magico-religioso si è espresso al suo massimo grado, ha raggiunto la sua vetta ed è lì che è iniziato poi a cadere, a decadere, l'epoca degli imperi, l'epoca della massima espressione della Chiesa cattolica, l'epoca appunto dell'inquisizione. Ma se allora quella era la paura, oggi abbiamo paura di tutto. Abbiamo paura che ogni secondo possa essere catastrofico, può accadere di tutto in ogni momento. È quella che in inglese viene chiamata la sudden death, la morte improvvisa. Vi ricordate forse quando entrò la regola del golden goal? Si faceva un goal e finiva tutto. Questo è il concetto sportivo di sudden death. Ebbene, questo stesso concetto lo possiamo estendere alla nostra esistenza quotidiana, a quella paura per cui se cade un casco può essere successo qualcosa di improvviso che distrugge tutto. Ma quel qualcosa di improvviso può accadere in ogni istante, in ogni secondo. Al tempo del contemptus mundi, nel medioevo, l'uomo medievale, possiamo supporre che dopo aver fatto i suoi riti, aver eseguito tanto più anche l'uomo antico, aver eseguito i suoi sacrifici, aver seguito le regole di condotta, poteva star certo che la protezione divina era per lui benefica. Oggi nessun esame medico che possiamo così in maniera fascinosa utilizzare come elemento simmetrico, simbolicamente simmetrico alla ritualità espiatoria degli antichi, dopo aver celebrato i nostri riti di espiazione medico-clinici, non abbiamo la certezza di niente. In quel momento siamo sani dopo l'analisi, ma domani, ieri, ieri l'altro, ho fatto il tampone. Ero negativo, ma questo non significa che io sia guarito o immune. Posso sempre essere contagiato e chi lo decide? Come faccio a saperlo? Quali certezze ho? Nessuna. Ogni istante può essere l'ultimo istante, l'istante fatale. Ogni istante. Vi è totale fragilità in ogni momento. E, ovviamente, la nostra cultura che segue il nostro paradigma, perché non dimenticate che ogni processo, ogni meccanismo, come magnificamente illustra Vadim Zeland con l'immagine dei pendoli, ogni meccanismo si autoalimenta, crea un campo di energia che si autoalimenta. Possiamo usare un'immagine affine, quella del volano. Ogni volano viene mosso, spinto in maniera sempre più veloce da processi che si autoinnescano e che sono conseguenti. Siamo dentro un paradigma di paura, ovviamente la paura paga molto di più della rassicurazione e allora siamo circondati da informazione di paura, siamo circondati da fiction, da drammatizzazioni di paura. Pensate soltanto ai medical drama. Basta guardare una puntata ai miei tempi di YAR, oggi di Grey's Anatomy o di The Resident e uno dice anche oggi l'ho scampata, sono stato fortunato, può succedere qualunque cosa in qualunque istante, se oggi sono sopravvissuto ma che culo ho avuto? E ovviamente la politica per esempio che segue i meccanismi della comunicazione e dell'informazione e che cerca il consenso alimenterà il proprio consenso attraverso la paura. Ma quello che voglio dire e spero di essermi espresso in modo chiaro è che questo è il conseguimento di quello. Questo meccanismo, la società della paura è il frutto del paradigma della paura che è il frutto del paradigma materialista. Non c'è più Dio, non c'è più una dimensione altra, insondabile, invisibile, con i suoi meccanismi invisibili, quindi non logico-razionali, i quali non sanno dare risposte sul futuro, non sanno dare sicurezze sul domani. perduto questo siamo soli nella nostra carne e qui ci incontriamo con i nostri antenati perché un bellissimo libro che vi consiglio di un grande medievalista italiano, ahimè, scomparso troppo presto che si chiama Vito Fumagalli, suo libro meraviglioso si intitola proprio Solitudo Carnis, la solitudine della carne. In effetti ci troviamo dall'altra parte rispetto ai nostri antenati medievali ma nella stessa solitudine, piantati nella stessa solitudine, loro nella solitudine della carne che imprigiona lo spirito e che però condanna l'individuo a vivere nella carne, noi soli nella nostra carne che è l'unica cosa che ci è rimasta e qui io vorrei essere il vostro motivatore insieme a Montendi qui alla fine vi citerò il suo magnifico aforisma che riguarda proprio la vita e la morte vorrei essere io il vostro motivatore e dirvi non abbiate paura non abbiate paura ma qual è l'antidoto alla paura? Ci dicono essere il coraggio anche i maestri di crescita personale i motivatori ci dicono in che modo contrastiamo la paura con il coraggio ebbene io non credo che sia il coraggio l'antidoto alla paura può essere la risposta la reazione alle paure performative superare un ostacolo buttarsi con il paracadute affrontare un pericolo contingente ma non il paradigma della paura non il fatto che la paura sia la nostra linfa vitale il sangue che scorre nelle nostre vene mentali questa paura non la cacci con il coraggio perché perché la somma tra coraggio e paura è sempre uguale a zero affronto quella paura nello specifico magari la vinco ma poi la volta dopo dovrò nuovamente affrontarla non vi è costruzione non vi è superamento vi è sempre una somma zero una continua lotta che benché vada finisce pari o ti fa vincere qualche battaglia ma alla fine la guerra la perdi no qual è l'antidoto alla paura è la fede la fede è l'antidoto alla paura la fede che va costruita la fede che ti permette di espandere sempre di più la certezza prima in maniera esitante poi sempre di più in maniera confortante e poi sempre più come senso di verità e vi assicuro io certamente non ho raggiunto la fede di san paolo non so nemmeno citare la fede di gesù ma se andate a leggere le ultime pagine degli ati degli apostoli con il naufragio dove vi è anche a bordo di questa nave san paolo sentirete le parole della fede lì quello è si è verificato non è un'invenzione sentirete le parole di rassicurazione le parole di potenza perfino a coloro che dovevano incarcerarlo perfino ai romani che lo stavano portando al carcere lo stavano portando a Roma le parole di chi ha fede rispetto alle parole di chi ha paura quello è il mio obiettivo di fede se arrivassi a quella certezza di fede cioè ad avere la fede come mia non tanto neppure secondo natura ma prima natura come mia stessa esistenza come mia prima esperienza come mio respiro ecco che sicuramente sarei libero da qualunque paura definitivamente io non ho raggiunto quel livello ma posso dirvi con certezza che mi sono accorto proprio di fronte a questi eventi che spaventano sempre di più di avere salda in me la fede e di non avere paura e di potervi dire non abbiate paura ma sviluppate la vostra fede sviluppate la fede ci sono tutti gli strumenti credeteci non c'entra niente la chiesa non c'entra niente qualunque tipo di pratica religiosa o di dogma c'entra quella relazione tra noi e Dio la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova delle cose che non si vedono nell'invisibile ricordate le parole di San Paolo Mosè sapeva vedere nell'invisibile questa è la fede e lo scettico Montaigne non ci parla di fede ma ci parla del paradosso della paura della morte che è correlata alla paura della vita e ci dà un bellissimo consiglio dice Montaigne rendiamo inquieta la vita con il pensiero della morte e rendiamo inquieta la morte con il pensiero della vita se abbiamo saputo vivere in tutta fermezza di comportamento e con animo tranquillo sapremo morire allo stesso modo animo tranquillo non ci dà una risposta come si fa ad avere un animo tranquillo io penso di saperlo con la fede non abbiate paura andrà tutto bene se sviluppate la fede bene cerca di portare in azione queste parole queste frasi questi insegnamenti nella tua vita di oggi affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso di energia di motivazione di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te non cedere mai alla mediocrità ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te a domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna contro il logorio della vita moderna e a a a a Grazie a tutti.